Musica We have got the power Musica Musica Calvita Purtroppo come già sapete Ho reinstallato tutto Quindi ho dovuto ricominciare da capo grey E ben diciamo che non è andata tanto male Ho 0 ricariche del palotto E però ho ancora il Mega Kid Grande Quindi, eravamo rimasti bloccati lì dove eravano i rimasti Eravamo rimasti bloccati dove c'erano i sogni Comunque ho scoperto cosa toccava fare Basta tornare indietro dopo aver fraccato tutti questi Come potete vedere qui? Si è liberata questa energia oscura E qui si è fatto un cancello di merda Comunque basta andare qui e superare qui E vi ritroverete in un universo parallelo Ehm, ok, no, mi è venuta la battuta, me la sono scontata Ah, vaffanguore Comunque, diciamo, vi ritroverete qui in questo universo parallelo Con un panino del Burger King L'amicizia è forte, ma il Wobber ha più forte Si, concordo, ottimo Ok, no, no, non Ok, non sei un'am... Ok, non sei un'amanta del Burger King Ok, ho capito Mamma di papà La mia piccola Anita Ma di che... Io lo stiamo... Ok, ok Ti prego, non uccidermi Mamma Perché in questo caso si parla di nostra madre o di una cosa... Oddio 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 Ok, l'audio è terribile Oddio Che? Ok, non voglio sapere che c'è lì dentro Wow Oddio queste cose malefiche Ok, no, senti, andiamo Sì, ho detto Ok, perfetto Oh, un caricamento Un altro Un bellissimo Un caricamento Ogni sembianza di logica e ragione è volata via E diciamo che è volata via Sto incominciando a... Perdermi in questo posto Ok, ci denuncio Taglio e riattacco Ok, forfoglio, continuiamo questa fam... Oh mio Dio Ciao piccoli bambini Che c'era? Ok, bambino, quello è un coltello Non serve per farsi dei pompi Ok, facciamo finta Ok, la scena più strana Io abbiamo iniziato Io c'è questo tipo C'è il coltello C'è il coltello Guarda cosa so fare Ma crepate piccoli bambini pacienti Voi e i vostri coltelli da collezione Ok Coltelli, sbarre, forbici Probicine Posso passare senza... Franky! Come stai? Eh, tutto bene Non posso neanche farti niente Dai, sciù Tipo qui c'era... No, immagino non posso fare niente Ok 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 Fruppi di nulla Maledetta strega Ci rivediamo in primavera Quando quel giorno arriverà Quando quel giorno arriverà Un pompa in faccia ti darò Da da di da di 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 Ok, no, andiamo di qua, beh Quei divertimento c'era Ah, cazzo Ah, santi dio Ah, santi dio Domanda Perché io mi riduco a fare queste cose? Oh mio dio, una scuola Ok, bambini Oggi impareremo il significato della vagina Vagina una... Ok, no, senti Oh, già è arrivato l'intervallo Oh, già è arrivato l'intervallo Ma vi concorcio anche i banchi vi portate via Ok, non è stato un incidente Domanda... Maledetti banchi schifosi Venite qui Assaggiate questa E dai, per favore Bambino, non farmelo fare Non va Resistente piccolo bambino schifoso Muori Impara a soffrire Delira di Raksen Dammi il tuo cacciavite Dammi il tuo dannatissimo cacciavite Bimbo satanico di merda Che è questo? Oh, sciocatore Ok, ecco Prendiamo questa e... Cioè Per... Credo... No Non posso tornare in Diodo Dannazione Devo andare di... Ah... Morirò prima che questo gioco sia finito Lo so Lo so, lo so, lo so Sì, lo so Sì, lo so, che gioco ci fai? Lì sopra In realtà, non lo so Stavo provandoti poi Cocio Quella tecnica già poi Sì, sì, sì Fa niente Da quando ti vengono le parole Avvertimi Sì Oh no 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 lo no Uuuuh È... è sangue quello si ma credo sia hello ok c'è un odio queste cose allora come funziona qui 7 9 oh donnazione ricarica allora dicevamo 7 9 allora quella è allora immagino che non devo andare su quelle che si sbiadiscono quindi 8 doveva andare bene questo quello no questo si quindi infarto in 3 2 1 oh mio dio pucciosità fatta casa no ok non ci credo ok dove è l'inghippo questo ci poteva essere una casa normale tranquillo no ovvio che no dovevi avere una casa con dei frenchi morti un passaggio verso l'inferno ok piccolo bambino muore che cazzo sta succedendo che cazzo sta succedendo ciu 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 cia pappatum a 1 pistello 2 bambina bastardo o no 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 vieni qui su porci schifosi ah cioè così e con la luce meh prendere la pistola oh ma chi me lo vuoi fare ma magari la sua bah ok rinuncio a capire me stesso c'è non non posso è cioè in realtà non ciò dannati coni oh cani oh 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 ma c'è rip il Cosa sta bloccando la porta dall'altra parte Devo andare in un momento Oh, mori, mori, mori Mori, mori Che cazzo c'è? Ok, no, questa è la strada sbagliata, immagino E ora siate fottuti, piccoli bastardi schifosi Certo, se non ci metterò se tre ore e mezza per razzicordi Sì Mio Dio, è l'arma definitiva di questo gioco E io la terrò qui come fosse il santo graal Si può, passo un tiro di mo' Posso romperlo? Ovviamente no E qui c'è un piede Oh, e qui c'è Sì, dammi la vita, dammi la vita, dammi la vita Dammi, grazie, grazie F9, prendi il piedino Ok Oh no, 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 non farmi sconti, vuolta, bambino No, no, no Creperò, creperò Fino a quando fanno questo tipo di giochi di... Oh mio Dio! Che ca... Ma muori piccolo schifo! Bastarda assada! Ehm... Domanda tecnica... Oh cazzo! Ok, si... Perfetto perfetto per la tua donna! Oh e cacca male che... Di bambini! Cazzo! Sì! Uno è andato, uno è andato, uno è andato! Muori piccolo schifo! Oh cacca due! Beffa mamma! Sì! Due! Dai 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 dai! Ne manca una! Non ho nozione! Ne mancava una sola! Una! Una che era una! Oh cacca... Di favor! Quale cazzo di favor! Mmm! Oh! Omm! Mbossciogodomm! Oh! 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 All'una! Preghiamoci a prendere, con queste! No Ok, un'è andata, un'è andata, un'è andata Dai, 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 dai Oh, G, 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 G G, dai, dai, faccio uno Oh, oh Oh, le ho ammazzate Tutte No, è ora che Cazzo vuoi che faccia Bestie Ok, ora mi Lo gioco Che devo fare Ci rinuncio Ok Bro, termino con questo video game play Ci vediamo in un prossimo video game play Sempre col vostro Ciao a tutti bro